Ti dici chi sei? Ciao, sono Gigi Manuela Lermone, ho 27 anni e mi sono diplomata al giugno del 2014 alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Perché hai scelto di fare l'attrice e quando? Ho scelto di fare l'attrice a 13 anni, perché sintetizzo, eravamo le scuole medie e io ero grassa, ero una figlia di ciotteria e mi prendevano tutti in giro. Perché sei raccontata di la tua per questo motivo? Perché la nostra insegnante di musica ha deciso di fare una recita a Natale e non so perché è ritenidissima, mi capire la mia scuola di Milano e la mia scuola di Milano. E la cosa che mi piacque era che i compagni in quel momento non riedevano di me, la riedevano di me, la mia parte buona di Eduard. E lì esistimi proprio questo. Ok, il ruolo dei tuoi sogni? No, no, no. Cioè ora non mi viene, non mi sono uno. No, preciso. E hai invece un rito scaramantico prima di entrare in scena? Diversi, però non li dico per scaramantico. Va bene. Il premio Istrio quest'anno compie 25 anni, fai un augurio a tuo personale. Allora augurio perché un quarto di secolo è un travato molto importante. Premio Istrio, grazie di tutto. Grazie.